Il Catania riprende a lavorare in vista del match di domenica a Latina, dove i rossazzurri sanno bene di potersi giocare una grossa fetta di salvezza. Sarà uno scontro diretto, anche se è chiaro che i Lazieri hanno ancora il bonus del derby contro il Frosinone, che potrebbe pure dare agli uomini di Giuliano la tranquillità di giocare con qualche punto in più della squadra etnea. Marcolin sa bene che se domenica il Catania dovesse vincere sarebbe con un piede e mezzo nel campionato cadetto del prossimo anno, e quindi è chiaro che non vorrà lasciarsi sfuggire l'opportunità di giocare per i tre punti. E' altrettanto vero però che sarà fondamentale non perdere, soprattutto per dare continuità ai risultati conquistati nelle ultime tre partite, ma anche per fare restare alto il morale di una squadra che negli scorsi 270 minuti ha subito solo un gol segnandone ben otto. Ci sarà un giorno in più per preparare questa partita che andrà sfruttato per valutare soprattutto le condizioni fisiche di Calaiò. L'attaccante principe del Catania infatti era uscito anzitempo per un fastidio alla coscia destra nel corso del secondo tempo del match contro il Trapani, e questo lo terrà in dubbio fino a poco prima della trasferta di Latina. Non dovrebbe comunque essere nulla di grave anche se in caso di mancato recupero è pronto il tridente composto da Rosina, Castro e Maniero, con il numero 10 nel ruolo di trequartista. In quel caso Oger, che rientra dalla squalifica, ritroverà il posto in mezzo al campo accanto a Rinaud e Schaudone, dando quindi maggiore forza alla linea mediana. Restano da valutare infine le condizioni di Martigno che potrebbe anche andare in panchina, iniziando così a mettere in difficoltà Marcolin su un suo eventuale utilizzo dal primo minuto a partire dal match successivo contro la Ternana.